bella raga siamo i tipi del sud ciao a tutti siamo nella mappa del tutorial vi starete chiedendo cos'è questo enorme ammasso di oggetti questa casa sull'alto si può dire si in pratica abbiamo realizzato questa casetta appunto per voi fan ora vi chiederete in che senso perché vi vogliamo bene in pratica noi cioè vuoi vuoi spiegare tu Giovisan? si se vuoi si noi abbiamo realizzato questa casa sull'albero vabbè prima di tutto ve lo dico in creative ma non abbiamo usufruito per esempio per abbellire la casa eccetera abbiamo creato un mini casetta sull'albero affinché ogni volta che per esempio noi finiremo di registrare vi dedicheremo 5 minuti cioè voglio dire voi entrerete in questo server nel server che è il solito cioè lead è sempre la stessa addio aspetta sento uno zombie si cavolo vabbè guarda sponda pure la barra questa qui si ce l'avevo detto ah ok vabbè comunque dicevo ogni volta che finiremo di registrare vi dedicheremo 5 minuti entrerete qua in in questa casetta lo spawn è settato qua dentro non potrete uscire affinché finché noi non apriremo le porte si e voi potrete assistere voi potrete assistere alla registrazione ovviamente non potrete sentirci ma potrete guardarci si e poi alla fine di ogni registrazione per esempio dopo 10 minuti così apriremo le porte e potrete esplorare un po' il mondo e potrete anche ancora questa cosa dobbiamo definirla con Swift faremo un mini gioco si un mini gioco che per esempio sarà il tiro al bersaglio una corsa oppure un'area parkour ancora dobbiamo decidere il vincitore ripeto ancora dobbiamo decidere potrebbe potrà partecipare ancora non lo sappiamo potrà partecipare a una chiamata Skype con noi a una registrazione non lo sappiamo si il premio è ancora da definire spero che questa sia una bella idea per voi cosa abbiamo non è ah si un'ultima cosa abbiamo installato Essential nel server perché per tutelarci affinché per esempio i giocatori non facciano gli stronzi fanno gli stronzi e per esempio possono aprire le cesse eccetera abbiamo provveduto con blocchette però se ci siamo scordati qualcosa per esempio non fate gli stronzi dircelo 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 va bene ok e niente ma entrerete con la game mode 2 bensì avventura si in modo non poterci rispare tutto quindi vi credo che non potete leggere blocchi eccetera abbiamo la save zone e niente spawnerete con il solito kit di armi in pietra si spero sia una bella idea cioè la prendiate come una bella idea si se volete possiamo anche farlo sto parlando scusa potete potremmo farlo anche nel solar così da fare la stessa cosa insomma ci assisterete durante i video e magari sarà come una specie di live solo che noi nel blog per esempio vi annunceremo le ore di registrazione cioè l'ora di registrazione eccetera il cellulare di swifter si ovviamente ogni volta e così si in modo che se vorrete anche consigliarci qualcosa durante il video potrete farlo si la chat sarà aperta si e potrete per esempio chattare con i vostri amici dire ciao youtube eccetera eccetera si si l'importante che non mettiate non vi mettiate a spammare o fare altre cose brutte comunque cioè non fate gli stronzi si non fate gli stronzi ok raga io direi che è tutto l'ip è sempre lo stesso ve lo diamo in descrizione stiamo scordando qualcosa no niente il vlog è fuori in descrizione tutto lì e non sempre in descrizione è tutto se avete domande potete farlo nei commenti oppure direttamente così mettete mi piace al video e vi è piaciuta questa idea si bella bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti